Sì, sì Sì Papa, sì Perché te le corna? Lo sai nel libro di Spiderman Coccolò C'è il tuo sedere in faccia, mi puoi mettere il sedere in faccia bene una mattinata che inizia benissimo la famiglia è riunita ma anche dall'altra parte del mondo a Chicago questa è la Chicago di Valentina Chicago di Valentina Matteo Napoletano io vi lascio così ciao